Dura presa di posizione del Presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, sulla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Per Di Bonaventura i cittadini teramani hanno vissuto 15 anni di incertezze, vittime di un sistema inefficiente e costoso che ha leso gli interessi dell'intera popolazione e della stessa Ruzzoreti. E' così il Presidente della Provincia è passato dalle parole ai fatti, inviando una nota ufficiale ai ministeri competenti, all'Istituto di Fisica Nucleare, alle regioni Abruzzo e Lazio, agli enti locali, alla Ruzzo, a tutti gli organismi coinvolti rispetto al tema della sicurezza dell'acquifero e per conoscenza anche alla Procura della Repubblica. Nella nota si sollevano quattro questioni ineludibili. Di Bonaventura chiede come prima cosa di sapere se nel piano economico-finanziario per le autostrade a 24 e a 25 di circa 3 miliardi di euro siano previsti capitoli di spesa per la protezione degli acquedotti e dell'acquifero. La seconda domanda riguarda l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per conoscere se l'ente abbia prodotto il piano per l'allontanamento delle sostanze pericolose. Il Presidente chiede anche se il Governo ha previsto o prevede un intervento finanziario per la messa in sicurezza dei laboratori e infine pone la questione dei 100 litri d'acqua che vengono messi a scarico per evitare fonti di inquinamento. Per Di Bonaventura o si risolve quest'ultimo problema o deve essere previsto un ristoro visto che il costo dell'acqua persa oggi finisce in bolletta ed è pagata dai cittadini. La provincia di Teramo, conclude la nota del Presidente, è storicamente impegnata in battaglie di salvaguardia di un patrimonio ineguagliabile e segue con grande preoccupazione quanto sta accadendo. Promette inoltre di difendere gli interessi dei cittadini e del territorio e anche quelli della Ruzzoreti che finisce di essere parte l'ESA in un sistema dove non può determinare elementi fondamentali.